bentornati su my football jersey oggi vediamo questa maglia speciale d'allenamento anche se in realtà per me è più una maglia casual del paris saint germain per bail main veramente strepitosa un po appena mio figlio ha visto la maglia ha detto papà porta la casa perché dobbiamo averla qui in alto trovate il costo molto vantaggioso per una maglia fatta sicuramente molto bene di un ottimo cotone vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia questa tra l'altro di un'ottima qualità e che arriva anche molto velocemente prima di lasciarvi la parte finale lasciate un grande like ma soprattutto iscrivetevi al canale spingete questo pulsante a voi non costa nulla ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia media ciao ciao ciao